Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, tante le novità e le notizie di questa edizione in cui si concentrerà in particolar modo sulle giornate di festività che ci accingiamo a vivere Pasqua, ci sono gli auguri, il messaggio augurale del Vescovo di Ferrarecomacchio, sentiremo a breve quale è il suo pensiero per queste festività, diverse poi le iniziative e gli eventi che ci attendono in questi giorni, ma in questa edizione parleremo anche di sport e di SPAL che ha pareggiato nel pomeriggio ad Ancona per 0-0 in una sfida salvezza con un'altra squadra che è invischiata nelle parti basse della classifica di Serie C, quindi un pareggio che smuove poco la classifica per i bianco-azzurri, ma in questa edizione daremo ampio spazio anche alla cronaca e all'agricoltura, ma partiamo appunto con in apertura di telegiornale il messaggio di auguri per la Pasqua che come da tradizione l'Arcivescovo di Ferrarecomacchio ha voluto concedere a Telestense la tv di Ferrara che manderà in onda il messaggio in versione integrale il giorno di Pasqua, il 31 marzo alle ore 13 e poi anche alle 19.30 sempre del giorno di Pasqua, ma sentiamo insieme appunto quale è il messaggio dell'Arcivescovo in occasione della Pasqua? Quest'anno la Pasqua ritorna ad essere celebrata nella nostra cattedrale e quindi gli auguri a tutti i ferraresi per questa Pasqua vengono da qui, da questo nostro luogo che ormai ha 900 anni e che accompagna da 900 anni la vita, le sofferenze, le gioie di tutti i ferraresi. È una Pasqua segnata ancora da guerre attorno a noi segnata da paura. La Pasqua porta speranza, porta serenità e porta questa rinascita nella nostra città, una rinascita necessaria perché la città fatica, fatica sul piano economico, fatica sul piano culturale e quindi questi segni diventano segni importanti di risurrezione e di nascita, di rinascita, di vita nuova. Auguri a tutti, buona Pasqua. In occasione del messaggio di auguri della Diocesi che ricordiamo andrà in onda domenica alle ore 13 alle 19.30 e in occasione ovviamente della Santa Pasqua sentiamo adesso un flash dell'intervista all'Arcivescovo che fa una riflessione su uno dei temi più caldi del dibattito cittadino odierno. Lei è molto vicino agli ultimi, non solo perché è arcivescovo, non solo perché è cristiano, ma per una dedizione, diciamo, proprio alla sorte degli ultimi che sono i migranti. Come trovare speranza oggi nel vedere questa indifferenza, solidità o addirittura paura ancora nell'accogliere i migranti? C'è una contraddizione nei nostri atteggiamenti. Da una parte, proprio nei giorni scorsi, si è segnalata la necessità di tanti lavoratori per i nostri luoghi di turismo, per le nostre campagne. Il mondo agricolo, il mondo del turismo ha chiesto 330 mila lavoratori migranti e le quote sono state 89 mila. È una contraddizione molto evidente. Non riusciamo a leggere che da soli non riusciamo più a lavorare i nostri campi, non riusciamo più ad accogliere i milioni di turisti, due milioni e mezzo sulle nostre coste dei lì di Ferraresi. E quindi dobbiamo avere l'intelligenza, la capacità di ricostruire le nostre città e il nostro paese, non chiudendo, ma aprendo e integrando. Le quattro parole che il Papa continua a ripetere, accogliere, tutelare, promuovere e integrare, sono le quattro parole che forse devono guidare la coscienza cristiana e al tempo stesso però anche guidare la politica a non leggere in maniera ideologica un fatto storico che sta segnando profondamente il futuro delle nostre città e del nostro paese. Passiamo adesso alla cronaca. Un anziano è stato salvato dall'incendio che si stava propagando nella sua casa a Casumaro. Nel Centese a metà giornata sabato le fiamme si sarebbero propagate per cause in corso d'accertamento al piano terra dell'abitazione dove il 75enne abita con il suo cane. L'uomo era al piano superiore e ha avvertito i vigili del fuoco che sono intervenuti insieme ai volontari di Bondeno e insieme ai vigili del fuoco di Cento e hanno tratto in salvo il 75enne e anche il suo cane. Sulle origini del rogo indagano i tecnici e anche i carabinieri che sono intervenuti per accertamenti. E a proposito di anziani parliamo di truffe e i tentativi di raggiri. Non si fermano ma la popolazione ferrarese soprattutto anziana fortunatamente ha sempre di più diciamo così gli anticorpi per combattere questo fenomeno grazie anche ai consigli dei carabinieri. Sentiamo. Truffe alle anziani nel ferrarese tra la città Argenta, Codigore e Comacchio negli ultimi due giorni. Sei su sette truffe sono andate a vuoto, questo nella settimana che precede la Pasqua. Vittime quattro donne e tre uomini di età comprese tra i 75 e gli 87 anni. In un caso solo un pensionato credendo che il nipote avesse davvero bisogno di denaro per ricevere cure e ospedaliere urgenti ha consegnato ai malfattori ori e contanti per un valore di oltre 11 mila euro. Per quanto riguarda le tipologie delle truffe, il finto incidente, l'arresto, il ricovero ospedaliero di un parente. Tra le truffe tentate poi i falsi operatori dell'azienda Uslo del comune che dovevano eseguire un controllo all'interno di un'abitazione per effettuare delle verifiche sull'acqua potabile. Ma l'arma avverte che esiste anche un'altra tipologia di truffa più sofisticata, il colid spoofing. Attraverso software particolari, truffatori e effettuano chiamate alle potenziali vittime. Sullo schermo dei loro cellulari appaiono numeri di telefono credibili di banche o istituti di credito e in alcuni casi anche il numero di emergenza 112. In questo modo i malfattori riescono a ottenere la fiducia delle vittime e indurle a effettuare bonifici a loro favore. Il motivo? Presunti sistemi informatici della banca, violati o compromessi. La necessità di spostare i fondi in un altro conto corrente sicuro, ovviamente indicato dal truffatore. Anche questo nuovo tipo di truffa rientra in quegli approfonditi durante gli incontri dei carabinieri con i cittadini che si sono tenuti grazie al protocollo siglato con l'arcidiocesi di Ferrara lo scorso anno. Il consiglio rimane sempre lo stesso di non fare entrare sconosciuti in casa, non consegnare soldi e contattare subito il 112 e i carabinieri. E si è spento venerdì a Roma all'età di 80 anni il professore Amedeo Quondam illustre, riconosciuto studioso che contribuì a creare l'Istituto dei Studi Rinescimentali di Ferrara di cui fu direttore dal 1986 al 1992 profondo il cordoglio espresso dal comitato scientifico dell'Istituto per questa scomparsa. Insieme ad altri studiosi partecipò la fondazione della rivista dell'Istituto dal titolo Schifanoia che ancora oggi continua le sue pubblicazioni. La commemorazione funebre del professor Quondam si terrà sabato 6 aprile alle ore 10.30 all'Università della Sapienza di Roma. E ora passiamo all'agricoltura. Si sta progettando il futuro. Il 2024 è un anno importante per l'agromeccanica come è emerso dall'incontro che si è tenuto in Piemonte giovedì scorso da cui è emerso che la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura è al lavoro per organizzare insieme ad altri enti il G7 Agricoltura. Ma Federuna Coma sta anche progettando la prossima edizione di Eima che si terrà a novembre a Bologna. Una manifestazione che interessa molto anche il territorio ferrarese e ovviamente tutto il settore primario. In base alle novità che sono emerse abbiamo già alcune anticipazioni. Che sentiamo? È un appuntamento che si presta ad essere sempre più atteso. Le aspettative si alzano così come crescono i numeri che caratterizzano la rassegna di quest'anno. Sono oltre 1.600 le industrie che già hanno fatto domanda di partecipazione. Cresce anche la quota estera che è sempre un punto di osservazione molto importante e qualificato per una fiera. Sono oltre 500 gli espositori da oltre 50 paesi. Una fiera di successo non è fatta soltanto di numeri e di partecipazione degli espositori ma anche di tutti quei contenuti strategici che fanno una rassegna sempre più importante. Certamente la parte internazionale anche per richiamare gli operatori economici di tutto il mondo ma ancora la collaborazione con le istituzioni, i 450 operatori economici da oltre 80 paesi che svolgeranno gli incontri d'affari con le nostre imprese e tutto quello che all'interno della piattaforma di EIMA viene considerato proprio per fare il punto sul trend di questo comparto industriale. Un comparto industriale che guarda anche il futuro, guarda anche il futuro in Fiera Bologna che è in espansione abbiamo visto nei prossimi anni. Fiera Bologna riqualificherà il proprio spazio non soltanto dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo e questo grazie alla possibilità che noi abbiamo avuto di interloquire con il quartiere fieristico proprio per accogliere la nostra domanda che è continuamente in espansione. Del resto una fiera come EIMA che diventa sempre più posizionata sul panorama fieristico internazionale ha bisogno di uno spazio qualificato, di uno spazio fruibile, efficace, godibile da tutto il proprio pubblico e quindi nel 2026 avremo un nuovo padiglione proprio all'ingresso principale della fiera con un nuovo ingresso molto più accogliente e ampio con all'interno un nuovo centro congressi ma anche una riqualificazione importante di aree verdi ad esempio che fanno parte della città fieristica che deve rappresentare sempre di più un'esperienza da vivere. Un'esperienza anche quella che ha Federo Unacoma nell'organizzare questi eventi che vi ha portato a organizzare il prossimo G7 dell'agricoltura? Sì, non lo organizzeremo tutto noi ovviamente, saremo presenti con quello che noi rappresentiamo e di cui siamo molto orgogliosi che appunto la nostra industria, il nostro valore anche dal punto di vista organizzativo ci saremo, ci saremo perché è impossibile a nostro giudizio non far vedere anche al mondo quanto importante è questo comparto industriale, la sua caratteristica super tecnologica, innovativa che davvero serve l'agricoltura di tutto il mondo per cui era importante per noi accettare l'invito ad essere presenti e in un contesto come quello di un G7 di grande prestigio anche lì in una location che fa respirare tutta la bellezza della nostra Italia perché siamo a Siracusa nell'isola di Ortigia e l'abbinamento, la combo, macchine agricole, tecnologia agricola e un'isola patrimonio dell'UNESCO direi che rappresenterà molto bene quello che siamo. Cosa fare a Pasqua e a Pasquetta Ferrara? Parliamo adesso di eventi, il meteo è incerto ma sono tante le iniziative per chi rimane in città in questi giorni di festa, dalla mostra Palazzo Diamanti dedicata ad Escera alla mostra Ebrei nel Novecento Italiano come vedete in questa foto al MES inaugurata da poco ai Diamanti a Pasqua è prevista l'apertura serale straordinaria fino alle 23.30 e poi la domenica e martedì eccezionalmente saranno aperti il Museo della Cattedrale, il Museo Schifanoia, il Civico Lapidario oltre alla casa di Ludovico Ariosto e ovviamente il Castellestense. Quindi diverse le iniziative, tanti gli appuntamenti, tra queste c'è anche la mostra di Paola Volpe Aldosso Dossi venerdì pomeriggio c'era il critico d'arte Maurizio Ganzaroli che ha definito così l'artista e la mostra Il cielo che parla. Sentiamo. Paola Volpe sicuramente ha un tipo di fotografia del tutto particolare che io già qualche anno fa quando le feci fare la primissima mostra denominai One Shot. Questo perché le sue fotografie sono date da uno scatto unico, istintivo, istantaneo, senza nessun tipo di posa, di attesa che qualcosa stia succedendo ma anzi viene fatto lo scatto e ti accorgi solo in un secondo tempo ciò che è venuto a galla anche nel succonscio della persona che va a guardare queste foto dove ognuno in un effetto più o meno di paraidolia, più o meno di artistico comunque a seconda di come è il suo animo affiora da queste immagini insomma. Tutti lo giorno d'oggi hanno un cellulare, tutti scattano foto però che poi diventino delle opere d'arte ce ne passa, ecco anche lì è questione di talento? Ma sicuramente qualcosa uno deve averlo già dentro perché chiaramente nell'arte si può dire che è già stato detto di tutto, è in tutte le maniere ma chiaramente il quid una persona deve averlo comunque dentro, uno deve avere quella scintilla che ti dà quel qualcosa in più altrimenti tutti sarebbero capaci specialmente adesso con tutte le nuove tecnologie di fare qualcosa di artistico ma qualcosa di artistico non è arte, chiaramente è arte non è sempre ciò che piace ma può essere anche qualcos'altro. E a proposito di Pasqua quindi sono diversi gli appuntamenti ma anche le manifestazioni organizzate in questo periodo dell'anno a Pasqua anche in ospedale a Cona si è fatta tanta beneficenza e tanta solidarietà sabato il motoclub Cascomatto ha consegnato delle piccole colombe tradizionali pasquali al reparto di geriatria dell'ospedale di Cona, l'iniziativa dal titolo Una Colomba per un sorriso e questa è l'iniziativa che ha portato il sorriso appunto ai pazienti che sono stati accompagnati in una giornata speciale dai volontari dell'associazione che già agli anni scorsi aveva portato avanti un'iniziativa simile ma con le uova di Pasqua per i pazienti più piccoli invece in questa occasione ha portato delle colombe pasquali ai pazienti appunto del reparto di geriatria dell'ospedale Sant'Anna. E adesso quindi passiamo allo sport, alla SPAL, un pomeriggio si può definire amaro per i colori bianco-azzurri che erano impegnati nella sfida salvezza con l'Ancona, una squadra che è imbischiata insieme alla SPAL nelle parti basse della classifica e finita 0-0 la partita tra le due compagini quindi è poco mossa la classifica dei ferraresi che hanno portato a casa solo un punto dalla trasferta in terra marchigiana. Faremo ampi approfondimenti nelle prossime edizioni del telegiornale e poi Alessandro Sovrani come sempre su telestense.it e i canali social della tv di Ferrara farà un approfondimento dedicato appunto a questo pareggio che come detto muove poco la classifica e che sentiremo poi anche le parole dell'allenatore di Carlo come ha colto questa partita dei suoi ragazzi, partita ricordo finita 0-0 tra Ancona e SPAL quindi una trasferta che diciamo dalle attese poteva regalare qualche punto in più ma faremo il punto appunto nelle prossime edizioni per quanto riguarda casa SPAL e i colori bianco-azzurri a proposito di sport parleremo anche di basket e di basket 300 impegnata in una sfida molto delicata invece per il basket Ferrara c'è una pausa in questo fine settimana pasquale e tornerà domenica prossima 7 aprile la Ferrara Basket 2018 con il campionato e il nuovo corso della serie in cui milita cioè l'Inter regionale. Ma prima di salutarci vi do un appuntamento che ormai è conosciuto e torna nel giorno di Pasqua quest'anno l'ora legale nella notte tra sabato e domenica 31 marzo le lancette dell'orologio vanno spostate in avanti di un'ora per adeguarsi così alla convenzione creata per sfruttare meglio la luce del sole durante il periodo estivo il cambio avviene dalle ore 2 del mattino che diventeranno le ore 3 nel fine settimana quindi si dorme un'ora in meno ma al contempo si potrà godere di un'ora in più di luce da qui fino a fine ottobre. E con questa notizia, questo ricordo è tutto io non mi resta che ringraziarvi, augurarvi una buona Pasqua e darvi appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale di Telestense. Grazie Grazie